La notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi sconvolge tutti e tutto, anche i palinsesti tv della RAI, che ora comunica le prime variazioni di programmazione per una giornata difficile. Oggi, lunedì 26 marzo 2018, l'eredità non andrà in onda, dopo che ieri nel quiz le ultime parole di Frizzi sono state, buona serata a tutti voi e a domani. Quel domani che è diventato quell'oggi più triste del solito e per cui dalle 18.50 di questa sera la RAI ha deciso di trasmettere Techecheche, uno speciale e tutto dedicato alla figura dell'amato conduttore televisivo. In segno di lutto per Fabrizio Frizzi, in RAI si cambia anche la programmazione pomeridiana e serale di RAI 1. Dopo la decisione di non trasmettere storie italiane, con la Daniele, buono a sapersi, i soardi, e prova del cuoco, clerici, dalle 14.00 alle 14.30 di oggi andrà in onda una versione ridotta della vita in diretta. La trasmissione con gli orni e fialdini sarà sostituita dal film La mia vita è uno zoo, per poi riprendersi la linea dalle 16.40 fino alle 18.45. L'eredità non andrà in onda neppure domani, anche in questo caso venendo sostituita da Techechecheche. Successivamente, in seconda serata, al posto di che fuori tempo che fa andrà in onda uno speciale di porta a porta che racconterà il giorno dell'addio a Frizzi, i cui funerali, così ha comunicato la RAI, si terranno dalle 12.00 di mercoledì 29 marzo 2018 in Piazza del Popolo, a Roma. Dalle 10 alle 18 di domani, martedì 27 marzo 2018, nella sede RAI di Viale Mazzini 14 sarà anche allestita la Camera Ardente. Sempre in segno di lutto per Fabrizio Frizzi, i RAI si modifica anche il palinsesto di RAI 2. Alle 14.00 di oggi la puntata live di Detto Fatto non andrà in onda. A comunicarlo è la conduttrice Caterina Balivo, che sul suo profilo Facebook così scrive, oggi Fabri non andiamo in onda, oggi nessuno ce la fa a lavorare in tv. In seguito, il pomeriggio di RAI 2 proporrà prima i tv Movi e Crociere di Nozze Sicilia e Crociere di Nozze Provenza, poi dalle 17.00 Castle, Farfalla Blu e Hawaii, 5.0, in prima e in seconda serata, invece, ci sarà spazio rispettivamente per il film Il Paradiso per Davvero, ore 21.20 circa, e per una puntata in replica della serie tv Il Cacciatore, ore 23.30 circa. Così come per RAI 1 e RAI 2, anche il palinsesto RAI 3 è oggetto di variazioni per ricordare Fabrizio Frizzi. Stando alle ultime notizie, dalle ore 15.15 di oggi la rete diretta da Stefano Coletta trasmetterà la replica della recente ospitata di Frizzi a ieri oggi e domani, programma con Antonella Clerici condotto da Carlo Conti.